Un SUV compatto che unisce sostanza e stile senza eccessi. Skoda Kamik si presenta con un facelift recente e aggiornamenti tecnologici significativi, ed è pronta a bissare il successo della versione precedente, senza stravolgerne l'essenza. Ad una prima occhiata, il look di Kamik cattura l'attenzione. Le linee e i tagli sono accattivanti, soprattutto nella zona frontale, enfatizzati dal tetto nero a contrasto che aggiunge un tocco di eleganza. All'interno, gli aggiornamenti tecnologici includono un display da 8 pollici e un virtual cockpit personalizzabile da oltre 10 pollici, che offrono una visibilità chiara e intuitiva di tutte le informazioni necessarie. Il display touch per l'infotainment, disponibile fino a 9 pollici con navigatore, è un vero piacere per gli amanti della tecnologia, mentre la ricarica wireless per lo smartphone e i fari full LED Matrix rappresentano il top della modernità. La qualità dei materiali interni è percepibile, con nuovi rivestimenti in tessuto che soddisfano sia visivamente che al tatto e soprattutto risultano accoglienti, garantendo un comfort eccellente durante la guida. Lo spazio interno è uno dei punti di forza del Kamik. Nonostante la lunghezza di 4 metri e 24, questo SUV compatto riesce ad ospitare comodamente 5 passeggeri, con spazio sufficiente per le gambe e la testa. Il vano di carico è capiente, ideale per viaggi a piano carico, bagagli inclusi. La praticità è evidente anche nei dettagli, come i comandi del clima, migliorati per una maggior facilità di utilizzo. L'allestimento Style, scelto per questo test drive, ha confermato di essere una soluzione versatile, perfetta per chi cerca una vettura elegante e funzionale senza rinunciare al comfort. La motorizzazione da noi testata è la 1000 TSI, in versione Style da 95 CV e cambio DSG. Durante test drive, il motore ha dimostrato un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, rendendoli ideale per un uso quotidiano. Mentre se si cerca qualcosa di più grintoso, la gamma include anche un 4 cilindri turbo da 1,5 litri, capace di scattare da 0 a 100 in poco più di 8 secondi e raggiungere una velocità massima di 214 orari. Insomma, un SUV compatto ma spazioso, tecnologicamente avanzato e dal design raffinato, che racchiude in sé tutta la qualità del gruppo Volkswagen, ma che è accessibile come una vettura Skoda. Kamik, ideale per la mobilità urbana e i viaggi in famiglia, è una scelta che unisce sostanza e stile, confermando ancora una volta la capacità di Skoda di soddisfare le esigenze dei propri clienti.